Il professor Leonardo Becchetti insegna economia a Tor Vergata, all'Università di Tor Vergata, è qui ospite del Festival Francescano 2014 a Rimini, questa mattina ha svolto un intervento sul tema Felicità Sostenibile, che è anche il titolo di un libro appena uscito da lui curato per EMI, edizione missionaria italiana. In economia esiste una felicità sostenibile? Ma assolutamente sì, la si raggiunge capendo quali sfide abbiamo davanti, le cause dei problemi e impegnandosi e lavorando per risolvere questi problemi. Le sfide le conosciamo, abbiamo povertà, disoccupazione, diseguaglianze crescenti in alcune parti del mondo, abbiamo dissesto ambientale e anche crisi spirituale di valori. Le cause sono fondamentalmente per noi dell'economia civile tre visioni anguste e limitanti della persona, dell'impresa e del valore. La persona che viene vista come homo economicus nella sola dimensione acquisitiva e materiale e non come persona, come essere relazionale e spirituale. L'impresa che viene vista come massimizzatrice di profitto e non come luogo dove si può creare valore per un insieme più vasto di portatori di interesse. E il valore, gli indicatori che devono tracciare la rotta, la direzione, che vengono identificati nel PIL e non in quello stock che è la vera ricchezza delle nazioni, di beni spirituali, economici, culturali e ambientali. La via per cambiare le cose è una via accessibile a tutti, tutti possiamo quindi partecipare a questa missione ed è quella dell'azione dal basso dei cittadini, del voto col portafoglio, del voto col mouse. La rete oggi ci dà la possibilità inedita e nuova di poter costruire insieme nuove consapevolezze, nuove conoscenze e di poter stare strumenti di pressione molto importanti che vanno dalle campagne per la riforma della finanza a appunto il voto col portafoglio e il voto col mouse per spingere imprese e istituzioni a migliorare le cose. In particolare con il voto col portafoglio io intendo quella capacità, quella consapevolezza dei cittadini che ogni loro scelta di consumo e di risparmio è una scelta che può premiare in positivo quelle aziende che sono all'avanguardia nel creare valore economico in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile. Ed è una scelta molto importante perché oggi le imprese sono sempre più attente a questo voto col portafoglio dei cittadini. Non è più una cosa di nicchia, ci sono settori dove ormai il voto col portafoglio è cresciuto molto come il settore della finanza etica, fondi etici ormai fanno quasi il 20% del mercato mondiale e anche dei prodotti verdi o dei prodotti etici che sono sempre più importanti anche per i nostri produttori per emergere da una concorrenza globale sulle commodity che ci schiaccia sul costo del lavoro e per portare dentro i prodotti un valore diverso. Il mondo ecclesiale e il mondo francescano possono fare qualcosa che fino ad oggi non hanno fatto in questo ambito? Il mondo francescano è sempre stata una miniera di ispirazione per tutti questi innovazioni e cambiamenti, basti pensare alla nascita delle prime banche civili in Italia, della partita doppia, alla nascita stessa del commercio equestolidale. Oggi dobbiamo procedere in questa via dell'incarnazione, quindi del calare l'ideale nella realtà, dello sporcarci le mani e chiaramente la visione francescana, anche con la perfetta letizia, del seminare con coraggio senza voler pretendere risultati immediati e dell'avere ovviamente una visione di benessere e di felicità molto diversa da quella della crescita della ricchezza materiale, penso sarà sicuramente un'ispirazione fortissima nel futuro.